Lei già dirige una discoteca. Siamo in due, dissi al buttafuori che stava fuori della discoteca. L'uomo ci guardò in faccia per un attimo, poi fece scattare un pulsante, sollevò il citofono e chiese il permesso di farci entrare. Ci avviamo per le scale, dopo aver sistemato mio padre che non camminava quasi più sul montascale. L'uomo che ci accolse al termine della rampa non dispiacque a mio padre e lui di uomini se ne intendeva. Era alto un metro e ottanta e apparentemente aveva da poco superato la trentina di corporatura atletica. Sembrava l'uomo adatto a gestire il nostro grande negozio. Dai lineamenti regolari temeva le mani appoggiate ai fianchi pronte ad agire. Sembrava un uomo capacissimo di autocontrollo, ma erano gli occhi che ci convinsero. Franchi ci restituivano i nostri sguardi con aperta schiettezza. Perché ha chiesto di dirigere il nostro negozio, disse mio padre. Vediamo che lei già dirige una discoteca. Perché tempo fa ho letto una frase che, siccome ero pronto, mi ha molto coinvolto. La frase diceva che è giusto vivere la propria vita per gli altri. Ed io in discoteca non sento di vivere la mia vita per gli altri. Perché, chiese mio padre. Perché la grande maggioranza della gente che viene qui è giovane e come tale vive ancora confusamente a cavallo tra il piano fisico e il piano astrale. Io non gli posso essere utile. E come vorrebbe essere utile a questi giovani? Proponendogli una metamorale. Ma in genere i giovani non l'accettano. Devono saturarsi della loro confusione. Io ascoltavo ed, essendo giovane, avvertì il tarlo del disagio. Il direttore della discoteca aveva messo il dito su tutto ciò che per me era incontrollabile. Chiesi. Perché vorrebbe imporre un comandamento morale ai giovani? Perché è un'indicazione per ciò che saranno in futuro. È un motivo di speranza che io non riesco a trasmettere ai giovani. E perché pensa di trasmetterlo ai clienti del nostro negozio? Perché i vostri clienti hanno superato in gran parte la giovinezza e si possono aprire ad una maggiore evoluzione? Mio padre spostò lo sguardo dal direttore della discoteca a me come per chiedermi il consenso e disse «Va bene, l'assumiamo nel nostro negozio». Grazie. 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 Grazie.